eccoci qua ragazzi oggi andiamo a pesca dal vostro predieri marco questa nuova avventura sarà per voi sicuramente emozionante andiamo allora oggi andiamo in polonia poland eccoci qua finalmente siamo arrivati abbiamo montato il nostro accampamento e ora proseguiamo a vedere la zona di pesca come vedete qua ci sono dei bei boschi della bell'erba tronchi vegetazione qua abbiamo anche qualche animale vedete dei fiori e è sicuramente questo lago incredibile là in alto c'è un castello ok dai andiamo a pescare su io direi che qui vicino a queste frattaglie è un buon posto ora vediamo di fare un bel lancio ragazzi allora oggi pescherò con della pancetta affumicata come esca vediamo ecco abbiamo lanciato ora occhio al galleggiante occhio ecco sta andando sotto occhio niente vai di nuovo niente qua sto sbagliando qualcosa ragazzi oggi pesci ci sono ma ecco niente vai preso eccoci eccoci qua eccoci qua pesce non sembra grande non tira molto diamogli un tiro perché sennò questo va a finire che strappa vai vai che sta venendo sta venendo è già galla l'ho già gallato ragazzi l'ho già gallato vieni vieni vai vieni vieni con calma eccolo un bellissimo carassio da 0 78 kg e ovviamente cash and release lo liberiamo non non lo vendiamo per 6 6 monete in più lo liberiamo e per questa giornata di pesca è tutto grazie ragazzi grazie tantissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti